Presidente, la Sardegna in zona bianca, un risultato molto importante che lei invita però a vivere con estrema prudenza e continuando ad osservare tutte le norme di sicurezza. Proprio perché è un grande risultato, raggiunto col sacrificio di tutti i sardi, del personale sanitario e di tutti quelli impegnati in questa dura battaglia col virus, dobbiamo sentire a maggior ragione la responsabilità di mantenere questo risultato. Per questo non dobbiamo abbassare la guardia, dobbiamo mantenere tutte le buone norme di condotta, dall'igienizzazione al distanziamento, fino all'utilizzo di tutti quegli strumenti necessari ad evitare una diffusione, una nuova diffusione virale. È in arrivo un'ordinanza per disciplinare la ripresa di alcune attività. Cosa cambierà nella vita concreta, pratica, quotidiana dei sardi? Faremo una riapertura graduale, fin da subito delle attività di ristorazione, con la possibilità di apertura serale per la cena fino alle 23, la possibilità per i bar di restare aperti fino alle 21, la riapertura nei fine settimana dei centri commerciali e stiamo studiando uno slittamento del coprifuoco con la limitazione al solo stazionamento e quindi alla sosta presso piazze, lungomare, belvedere, in maniera tale che si possa comunque circolare liberamente. Altra specifica ordinanza riguarda invece la concreta realizzazione di quella protezione in più per la Sardegna che lei già da un anno sta chiedendo e sollecitando e che è fermamente intenzionato ad attuare anche per i prossimi mesi, a partire da ora. Il modello che noi avevamo proposto già un anno fa, all'inizio della prima ondata, oggi è diventato, come dicevamo allora, nonostante tutti gli attacchi, gli sberlefi che vennero fatti a suo tempo, una linea di tendenza internazionale che anche l'Unione Europea sta perseguendo. È necessario quindi che oggi, avendo conquistato la zona bianca, ci sia un sistema di controlli negli accessi, nei porti, negli aeroporti, che certifichi che chi arriva non porti con sé una nuova diffusione virale. Quindi certificazione del test o esecuzione di un test rapido una volta giunti in Sardegna. Presidente, tutto questo sistema di protezione non può essere distinto da una massiccia campagna di vaccinazione. A questo proposito, lei, che richiesta rivolge al Governo nazionale per poter dare alla Sardegna anche questa protezione in più, il vaccino? La Sardegna è la prima regione del Paese ad aver raggiunto il risultato della zona bianca. Può diventare un laboratorio, un modello per tutta l'Italia. Scriverò al Presidente Draghi chiedendo che ci sia un impegno straordinario, vista anche il ridotto numero di popolazione che abbiamo qui in Sardegna, per poter avviare una grande campagna vaccinale immediata che ci porti nell'arco dei prossimi 30-45 giorni a vaccinare l'intera popolazione. Grazie.